Altre 84 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria, tra cui un cittadino bulgaro, nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Lecce e della compagnia di Tricase sul Raif Party di Ferragosto a Diso, in cui perse la vita la potentina di 23 anni Laura Lamberti. L'identificazione è avvenuta mediante l'analisi di filmati e fotografie girate da militari in borghese che si erano infiltrati al Raif Party. Anche per questi altri 84 partecipanti le accuse sono di violazione dei reati di invasione di terreni o edifici, danneggiamento e ingresso abusivo nel fondo altrui, mentre per la violazione del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone o spettacoli e intrattenimenti pubblici senza licenza, risponderanno solo gli organizzatori dell'evento.